Ho andato a Russia e ho imparato nel museo che Putin è un grande, fantastico e che tutto qui è buono. I patrioti russi sono i migliori del mondo. E sai cosa ho imparato? Che si può diventare ubriaco sempre e nessuno non è incacciato se io sono ubriaco nella strada. Cazzo quanto al colo ho bevuto. È sempre solo duro qui. Guarda quante ragazze ci sono qui. Guarda. E se non ti piace ragazze, forse ti piace uomini. Guarda la muscolatura che si fa ballare e tutto è bello. Madonna ragazzi, se non diventi duro con le ragazze e nemmeno con gli uomini, allora io so l'assistanza perfetta per te. Fagioli felici per piritare. Compro un grande sacchetto di fagioli bianchi. Sai, questo non costa niente. Un sacchetto come questo, se tu mori la prossima settimana, un sacchetto come questo è abbastanza per tutta la vita. Metti nell'acqua fresca per 24 ore. E l'altra cosa che tu devi fare un giorno prima è il pane. Madonna ragazzi, che buono è questo pane. È fresco, è buono, è fantastico. Metti la farina di frumento. 200 grammi. È 100 grammi di farina di segale. E il lievito, io uso 6 grammi, non è importantissimo quanti grammi ti metti. E poi il sciroppo di malto. Ti ricordi quando abbiamo fatto la pizza buonissima? Trova il sciroppo di malto, è buonissimo. E poi il sale. Un mi ha scritto che non si può mettere il sale adesso perché il lievito more. Questo non è vero. Forse un po' more, che cazzo mi frega. Ma il risultato è buono perché il lievito pirita tutto il notte e c'è tanto di tempo per il lievito, per crescere. Allora il sale. E poi l'acqua. Io uso 50 grammi di acqua, forse 100 grammi. Non è importantissimo. Ma tu prova. Guarda, metti nella macchina e metti l'acqua e quanto il, come si dice, l'impasto. Quanto l'impasto è fradicio, allora è buono. Guarda, è bagnato come una vagina di una ragazza che ha assaggiato questo piatto. Quanto è finito. Un po' di olio e metti l'impasto qui nel frigorifo per 24 ore. E domani facciamo le buone cose. E adesso un po' di storia russia. Nell'anno 1812, Napoleone Bonaparte, ma lui ha voluto diventare francese di merda, allora lui ha detto Napoleone Bonaparte, come un francese. Lui è venuto in Russia e ha gridato, un francese, bare vous de là, come un cretino. E i russi hanno detto, vaffanculo. Ma quando lui è arrivato a Kremlin, a Moscò, nessuno era là. Tutti hanno andato a fanculo. Quasi tutto. E lui è incazzato. Era incazzato. E poi i russi hanno bruciato tutti i Kremlin. E Bonaparte ha sparato, ha ammazzato i russi. Lui ha gridato, ma russi di merda perché hai bruciato i miei Kremlin, vaffanculo. Lui era incazzato e poi lui è andato per vincere la Russia, per concorre la Russia. Ma poi è venuto il neve e tutto è di merda e freddo. I francesi hanno cominciato a morire. Maintenant je suis tout triste, Napoleone ha detto. E poi lui è andato a vaffanculo. E i russiani hanno vinto. E il secondo giorno prepariamo i fagioli, l'acqua. E poi metti questo qui di pomodoro. Io non ho trovato come dici in italiano. Il purè, il concentrato di pomodoro. Si usa in Sicilia, so che si usa in Sicilia. In inglese è tomato paste. E melassa, compra la melassa perché fa un sapore fantastico. E se non trovi il melassa, allora compra un zucchero molto scuro. Come il zucchero di muscovato. Perché il sapore è simile a questo. Il zucchero normale, gli aglio. So che questa macchina per gli aglio non si usa tanto in Italia. Ma si usa nel resto del mondo. Pur in Francia. So che non cazzo ti frega i francesi. Ma questo è buono. E non è un'abominazione come il ketchup in Italia. Questo è una cosa buona. Il senape. Il pepe nero. E poi metto il bicarbonato. Perché dobbiamo aggiustare il livello di pH. L'acidità. Perché questo facciamo nella pantola di pressione. E nel pressione non diventi buono questo. Se c'è troppo di acidità. Allora il bicarbonato fa tutto un po' più basso. Taglia la cibolla nel pezzi grandi. E metti tutto nella pantola. Con la fagiola che è stata nell'acqua per 24 ore. E stai attento cazzo con la pantola di pressione. Se tu non sai come si cazzo usa. Senti adesso. Chiuso. Chiudi la cosa. Metti il caldo massimo. E quanto ti suona la pressione qui. Allora significa che è buona. Allora metti il caldo più giù. E se non ti senti pressione più. Allora se fa tutto. Devi metti le pressioni alto. Aspetta e poi di meno. Ma un po' di più che prima. Hai capito? Mio italiano è di merda. Ma tu vuoi il minimo di caldo che è possibile. Per mantenere il pressione. Questo è il mio punto. E quanto c'è il pressione. Allora comincia il conto alla rovescia. 20 minuti. E vedi che non ho aggiunto il sale. Perché usiamo la pancetta o il bacon. Come vuoi tu. Ma questo è salato. Allora dopo vediamo quanto sale dobbiamo aggiungere. Prendi un grande pezzo di bacon. E se non c'hai il bacon. Metti guanciale o pancetta. Come vuoi tu. Dai dei pezzettini. E metti in una patella calda. Così. Guarda. E poi vieni un buon sapore qui. Quando i fagioli sono pronti qui dopo 20 minuti. Allora aspetta. Non metti lì acqua fredda o qualcosa. Aspetta. Dopo ancora 5-10 minuti. I pressioni vanno giù. E poi si può aprire. Metti carne qui. Chiudi la cosa. E vogliamo ancora 10 minuti con il pressione. E poi. Guarda. È pronto. Saggia. Se ti vuoi mettere un po' di più sale. Allora metti. Ti ricordi quanto abbiamo messo il bicarbonato. Allora questo è molto basso. C'è un sapore molto intenso. E adesso vogliamo mettere un po' di aceto. Allora io ho messo il laccetto di cerri. Ma tu puoi mettere cosa vuoi. Ma un laccetto buono. A me si cazzo. Un sacco di prezzemelo. Perché mi piace il prezzemelo. E adesso. Presto facciamo il pane. Ma che buon profumo. Prendi un pezzo. Fa una palla. Metti un po' di farina qui. E guarda. Così. E mettiamone una patella calda. Qui per un minuto. E poi. Così. Un minuto. E' pronto il pane. Che buono. E' un po' di burro. Ma Cristo bastardo. Che buono. E' mi fa male. E' tutto. Perché sono così duro. Ma vaffanculo. Tutti mangia. Ciao ragazzi. Noi siamo qua in compagnia. Della carbonara del futuro. Forza Fudembra. Avanti così. Rock and roll. Metti un termometro. E quanto è la. Il dentro. Dalla torta. E' 95 gradi. Allora è pronto. Guarda che bella torta. E sai una cosa? Vogliamo fare la torta. La torta.